Eccoci, siamo in Sicilia, siamo in compagnia di Mario Ravetto, proprietario del dealer OMP Racing per Palermo. Mario, come valuti il prodotto OMP? Il prodotto è senz'altro di alta qualità, di altissima qualità, direi soprattutto in relazione alle innovazioni che sono state apportate negli ultimi due anni e l'attenzione è costata principalmente per il fattore qualitativo, l'ottimo rapporto qualità-prezzo per quanto riguarda i prodotti che vengono utilizzati dai nostri clienti. Ma dice Mario, come posiziona il marchio OMP nel mercato, specialmente in quello siciliano? Senz'altro in forte ripresa, con un trend positivo in crescita, anche in virtù della continua concorrenza con gli altri marchi che possono soltanto stimolare OMP e i suoi leader a essere sempre più presenti con maggiori attenzioni. Ho capito. Mario, ci puoi parlare della presenza di OMP e alle novità regolamentari in genere? Certo, a me che si è dimostrata senz'altro attenta per quanto riguarda sia le ultime innovazioni tecnologiche che le ultime novità regolamentali, soprattutto per quanto riguarda l'uso dei materiali e per collare anche. Prossimamente sono certo che ci verranno poste queste attenzioni anche sulle omologazioni, per quanto riguarda i sedili e i tassi. E pensi che la concorrenza possa inserire il nostro marchio? Io sono sempre dell'articolo, la concorrenza può solo stimolarci e incitarci ad andare avanti affermandosi con la maggiore efficacia. Quindi sei ottimista e propositivo per il futuro? Assolutamente sì, del resto siamo presenti in tutti i settori, dalla Formula 1 al Dacia al Turing e anche per l'abbigliamento per il tempo libero, spesso ci possono rafforzare. Grazie Mario.